Siamo qui con Sorrentino e Badolato, entrambi migliori in campo del match che i Faccaldo hanno pareggiato per 5-5 con i Polo Sud dopo che la squadra di Sorrentino era in vantaggio per 5-0, quindi la partita è un po' roccambolesca. Cosa avete a dirci su questo match? Vabbè, è stata una bellissima partita, poi loro sono stato molto più bravi nel primo tempo, ma noi non ci siamo arresi e negli ultimi 10 minuti abbiamo fatto 5-0. C'è un po' di rammarico perché se iniziamo così come abbiamo finito forse potevamo essere più fortunati, però va bene, complimenti a loro. Sorrentino, una grande partita, pensate di aver messo in ghiaccio i risultati sul 5-0, invece forse ti è abbassato un po' la guardia? Siamo partiti bene, purtroppo, sempre di solito, raccogliamo sempre di meno di quanto studiamo, questo è solo un po' che ci stiamo accompagnando dall'inizio e dobbiamo sempre lavorare, perché per 2-3 punti così, è davvero una brutta cosa, però comunque siamo soddisfatti per quello che abbiamo giocato, forse tutta la concentrazione possiamo migliorare. Quindi questo risultato può essere di stimolo, un rilancio, potete avere un esempio, un'esperienza? Sì, speriamo di trarre quanto più buono abbia fatto vedere oggi per risalire la classifica. Va bene, Badolato ha qualcos'altro da dire? No, va bene così. Va bene, grazie così. Arrivederci. Arrivederci, Sky! Arrivederci, Sky!